buongiorno ecco il giallapegno brown di semistrani vedete veramente molto belli questa anche questa pianta relativamente piccola per tutti i frutti che fa come vedete è piena anche qui anche qua questa è la pianta nella sua interezza e niente io l'ho mangiati mangiati appena stanno cambiando colore e sono molto buoni la mia diciamo i miei preferiti oltre al classico sono senz'altro il purple e il giant ma anche questa questa variante brown cioè marrone è davvero molto interessante e tutti gli amanti del giallapegno dovrebbero averla ecco giallapegno brown di semistrani carlo martini arrivederci